La Marina Militare è protagonista del Blue Festival, in questa prima giornata in modo particolare si parla di aviazione per fare anche appassionare, per far conoscere, per condividere questa esperienza con i bambini, i ragazzi e le famiglie. Qual è un po' lo scopo di questa giornata? È stato organizzato questo stand della Marina riguardante l'aviazione per oggi e per il 4 di agosto, per far riavvicinare e sensibilizzare tutta la parte dei giovani che si vuole avvicinare all'aviazione navale, in questo caso per oggi. Nelle successive giornate, per una settimana, si avranno stand di varie componenti della Forza Armata Navale. Troveremo anche gli incursori, la fanfara, la parte navale dei sommergibilisti. Allo stand di oggi troverete la parte dell'aviazione navale, dove viene divisa su tre parti, la parte dei piloti, la parte degli operatori di voli e degli specialisti. Ognuno ha mansioni diverse, quindi siamo qua pronti, disponibili per ricevere gente e spiegare come funziona l'aviazione navale in tutto e per tutto.